Ricordo che è stata una giornata davvero complicata e molto lacerante per me. La prima volta da consigliere regionale eravamo alla Corte dei Conti perché c'era l'udienza di parifica del bilancio regionale con la Corte dei Conti ed eravamo in seduta, stava parlando il Presidente Emiliano quando si è saputo della notizia di questo evento che sembrava tragico ma non così tragico come poi si è violentamente manifestato. Ricordo che tutti quanti siamo rimasti così straniti perché all'inizio sembrava che ci fosse qualche ferito, qualche forza, qualche deceduto, poi nel corso delle ore il bilancio è diventato tragico, tragico a prescindere dalle conoscenze personali che ognuno di noi andriesi aveva nei confronti di qualcuno dei deceduti. Io personalmente almeno tre o quattro di loro erano persone molto care. E' una di quelle fatalità che uno non vorrebbe mai che si verificasse. Ultimamente un nostro illustre concittadino che si chiama Antonio Del Giudice, che è stato un grande giornalista e che da un po' di anni si dedica alla scrittura nell'ambito dei suoi racconti, ha dedicato il primo racconto, naturalmente tra la fantasia e la realtà, a questo tragico evento. Si chiama il trenino a colori di racconto ed è un, leggerlo dall'inizio alla fine è davvero un'impresa ardua perché è bellissimo ma è straziante perché descrive le vite spezzate di queste persone che ognuno per un motivo tutto particolare si sono trovate nel giorno sbagliato al momento sbagliato. Nei giorni successivi, anche quando abbiamo fatto una seduta monotematica al Consiglio dedicata a questo in cui l'assessore Giannini ha esposto le cause di questo tragico evento, per quello che poteva, visto che è aperta un'inchiesta della magistratura anche penale su questo tragico incidente, ha spiegato molto bene che le questioni relative alle opere infrastrutturali non avevano niente a che fare. Io credo che sia proprio così. Quello che si poteva, forse, e si doveva avere uno sguardo maggiore di attenzione era la questione del sistema di rilevamento dei treni che hanno una percorrenza su un unico binario. Però questo è sempre col senno di poi, perché abbiamo scoperto che in Italia ci sono migliaia di chilometri a unico binario che funzionano nella stessa identica maniera e sono sempre funzionate. È chiaro che poi quando succede la cosa c'è la rincorsa a trovare il colpevole ed è giusto. Il responsabile altrettanto, ma non vorrei che poi si incorra nel meccanismo del capo espiatorio, perché il capo espiatorio non è più il colpevole, è uno pur che sia che, come dice la parola stessa, è spia per tutti. Io non credo che ci siano esenzioni da responsabilità, ma credo che un tragico concorso tra errore umano e qualche incuria abbia generato questa cosa. Poi, siccome io da uomo delle istituzioni rispetto le istituzioni, l'istituzione è preposta a far chiarezza su questo, la magistratura, e io aspetto che questo sia. Chiedo a tutti, a quelli che sono rappresentanti istituzionali per prima, un momento di sobrietà nell'esprimere giudizi. Diceva un grande della letteratura che si chiama Carlo Levi che le parole sono pietre, quindi prima di lanciarle bisogna pensarci bene su. Credo che il sistema dei trasporti abbia bisogno di un profondo ammodernamento per la questione di assicurare un diritto costituzionalmente garantito che in questi tempi più che mai è fondamentale, che è quello alla mobilità. Però credo anche che le magie non le fa nessuno. Quindi dobbiamo avere la pazienza di stare sulla palla, non demordere mai, e provare a verificare possibilmente prima che accada qualcosa di patologico e quindi in maniera fisiologica che il sistema pur con le sue falle non abbia falle tali che possano portare a questi esiti tragici. E' chiaro che su questa cosa qua c'è un lavoro, un lavoro grande da fare, l'infrastrutturazione delle strade, delle ferrovie, dei porti, degli aeroporti. E' un tema grossissimo per la pubblica, se vuole rilanciarsi come terra di raggiungimento di turismo, ma anche come terra di civiltà per chi ci vive. Noi abbiamo fatto passi avanti, non siamo ancora a traguardi, diciamo, a ambiti. Speriamo e lavoriamo soprattutto perché questo accada. Devo dire onestamente, non sto facendo la difesa d'ufficio di nessuno, che l'assessore al ramo, che è Giovanni Giannini, è una persona di grande competenza e di grande abnegazione. Quella tratta è una tratta con un contratto di servizio. Cioè la Regione ha compiti di vigilanza e di impulso quando ci sono carenze gravi, ma non in maniera diretta. Lo che significa è che è come se ci fosse fatto il paragone un po' improprio, un contratto di locazione di una casa. Se io loco la casa a una persona, non è che poi ogni giorno mi presento a casa di quella, beh vediamo casa, come me la tieni, eccetera. Posso agire per quella persona se non mi paga, se ho prova che ci siano gravi inadempienze al contratto di locazione, ma non posso interferire nella gestione di quella casa. La Regione Puglia in questo anno ha fatto di tutto e sta facendo ancora di tutto per mettere, diciamo, sotto pressione ferrotranviaria perché porti gli adeguamenti dovuti. Va detto anche per onestà e salvo sempre la responsabilità di accertare in capo alle singole persone, in capo anche alla società che gestisce, che anche loro hanno avuto un grosso danno da questa cosa qui. Quindi la politica sta muovendo i passi. Poi mi rendo conto che di fronte a queste cose le risposte sembrano troppo dilatate nel tempo. E sembra sempre che non arrivino nei tempi dati. Però posso assicurare, se la mia parola vale qualcosa, che non si sta perdendo tempo. Tutti quei pendolari che ogni giorno continuano ancora ad avere di servizio, comunque a chi si chiede quando ritorneremo ad una velocità più sostenibile, quando si riaprirà la tratta Andrea Corato, che cosa si può dire? Non voglio dare risposte banali a domande che sono complesse. I problemi ci sono, bisogna affrontarli, li affronteremo. Io ho risposte sui tempi, non ne so dare, non ne voglio dare. Sarebbe umilantare cose che non appartengono alla mia competenza. Credo che, salvo, ripeto, le indagini e le questioni che afferiscono a quelle indagini, il lavoro si stia facendo e stiamo continuamente monitorando perché i tempi siano il più possibili e accettabili. Devo dire che poi la fantasia delle persone supplisce a questo perché i ragazzi, le persone si sono organizzate con le macchine, eccetera. Però questo non significa che chi è preposto ad assicurare un servizio in maniera istituzionale possa cullarsi su questo, assolutamente no. Grazie a tutti.